Affollatissima presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Biceglie di Tonya Spina. Sarà sostenuta da cinque liste di aria di centrodestra. Punta tutto su competenza, etica e lungimiranza. Ascoltiamo le sue parole. Un bagno di folla per presentare una candidatura a sindaco per ottenere quale obiettivo? Sono davvero emozionata, non mi aspettavo tutta questa gente, mi fa veramente molto piacere. Un bagno di folla per un'altra Biceglie, un altro modo di amministrare la città, un modo nuovo che è basato su principi e valori sui quali io credo che sono la concretezza, l'etica, la competenza, la partecipazione e su questi che la gente mi segue, su questi che fonderò il mio programma per un'altra Biceglie. Ho incontrato tanta gente che si è stancata di questa politica, si è disgustata di questo modo di fare politica. Io voglio esportare l'attività che noi abbiamo fatto col nostro gruppo, quella di partecipazione di tutti gli eventi della vita della città, ai nostri concittadini. voglio farli rinnamorare di quella che è l'attività politica, perché la politica, la città, non è una cosa che è distante da noi, ma è una cosa che ci appartiene. Vorremmo esportare con la mia collezione, con il mio gruppo, il nostro modo di concepire la politica, che è soprattutto quello di partecipazione e quello di competenza. Siamo sicuri che questo bagno di gente non è casuale, ma evidentemente crede nella possibilità di realizzare qualcosa di veramente molto concreto. Cinque liste a sostegno, non ci sono partiti tradizionali, questo cosa significa? Io sono nel centrodestra, nel senso che c'è la lista del partito a cui io appartengo, noi con Biceglie. Io sono stata sempre nell'area di centrodestra e là ci rimango, perché osservo e conservo i valori di democrazia che sono propri di quest'area politica. Non faccio cambiamenti, non posso tradire quelli che sono i miei principi. Devo anche dire che tutte le liste civiche che sono con me credono, sono d'accordo e credono e condividono gli stessi valori che condivido anch'io. È una sfida basata anche sulla competenza. Lei ha avuto incarichi sia in Consiglio Comunale, ha avuto ruolo in Assessorato Provinciale, quindi sa dove poter mettere le mani per una città importante come Biceglie. La mia competenza riviene soprattutto dalla mia formazione professionale. Io non nego e vorrei esprimere il fatto che io ho un curriculum degno di essere portato all'attenzione dei cittadini. Le mie due lauree, il Master in Amministrazione e Gestione degli Enti Locali, mi hanno consentito di svolgere gli incarichi politici con molta competenza. Io penso che comunque debbano essere i cittadini e coloro i quali hanno lavorato con me a dover dare un giudizio sull'operato che ho svolto. La mia competenza è al servizio della città.